È morto all'età di 79 anni l'onorevole Antonio Valiante, già vicepresidente della regione Campania. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri 7 gennaio, poco dopo le 19, presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove era ricoverato da circa una settimana nel reparto di rianimazione a causa di una broncopolmonite. Ieri mattina le sue condizioni di salute sono peggiorate e inserata la triste notizia. Valiante era uomo di riferimento della democrazia cristiana. Entrò in politica nel 1960, quando venne eletto consigliere comunale nel suo comune Cuccaro-Vetere, del quale diventò sindaco nel 1964, carica ricoperta fino al 1990. In quell'anno diventa vice di Antonio Bassolino, allora presidente della regione Campania per la seconda volta. Più volte è stato vicepresidente fino al 2010, dal 1993 al 1994, è assessore regionale con delega ai lavori pubblici Acque ed Acquedotti, Edilizia Popolare e Protezione Civile. Nel 1994 è deputato della Repubblica nella dodicesima legislatura per la quale è stato componente della Commissione Affari Sociali e in seguito della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione. Lasciamo gli due figli, tra cui Simone, deputato eletto nelle file del Partito Democratico. Ricordo con estremo affetto i giorni trascorsi in Consiglio regionale e i suoi insegnamenti, poiché è stato per me un riferimento durante il corso di cinque anni di consigliatura regionale, sempre pronto a darmi giusti suggerimenti. Mi onora di aver condiviso con lui un pezzo importante della mia vita. Lo ricorda così la consigliera regionale Anna Petrone. Grande dispiacere anche da parte del già presidente della regione, Antonio Bassolino, che commenta così «Antonio Valiante è stato un amministratore competente, un dirigente politico unitario, una brava e bella persona. Era profondamente legato al suo cilento e aveva un giusto e positivo rapporto con la capitale, come la chiamava, con Napoli. Abbiamo lavorato assieme per diversi anni, con reciproca stima e fiducia. Anche quando i rapporti tra DS, Partito Popolare e Margherita prima e dentro il PD poi si facevano difficili, noi due abbiamo sempre mantenuto un forte rapporto umano e personale. Con lui va via un pezzo della mia vita. È grande il dolore. Un abbraccio affettuoso alla moglie Rosa e ai figli.